Le proposte sono veramente tante, dai licei fino alle scuole professionali, ai tecnici, quindi c'è veramente per tutti i gusti e per tutte le propensioni, perché questo è importante, seguire i propri sogni perché i sogni si possono anche realizzare. Si svolta in piazza Salandra Spazio Nardò, una giornata di orientamento scolastico per i ragazzi del comune Neretino. Alla presenza infatti di vari stand degli istituti scolastici secondari di secondo grado di Nardò, tantissimi giovani hanno potuto valutare tra le tante offerte formative, alle quali affidare il proprio futuro. Siamo alla seconda edizione di questo evento, è un evento a cui l'amministrazione ci tiene tantissimo e ha come obiettivo quello di valorizzare quelle che sono le proposte didattiche delle scuole superiori di Nardò che anno dopo anno stanno crescendo. Nella nostra piazza oggi, piazza Salandra, abbiamo gli ospiti di tutte le scuole medie della provincia e partite proprio da poco le varie proposte, c'è una serie di gazebi dove le famiglie, le scuole possono interfacciarsi e prendere contatti proprio per dare la possibilità ai nostri giovani che si trovano in un momento importante della loro vita, quello di scegliere anche in base alle proprie attitudini.